Questa è una maglia di un vero pescatore come sono io e chiamo Ferdinando, ragazzi, e dovete pescare molti pesci, serra, orate per buona alvella. Chi te l'ha regalata? Tommaso di Trapani, del negozio di Villa Franca. E che saluti pure che lavorano lì? Saluto pure Tommaso, Tommaso hai salutato Giuseppe e Dario, una volta anche lui mette un bel pescatore. Aspetta, chi è? Lui mette un pescatore, vedi? C'era un bel pescatore, 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 un bel pescatore. Saluto a tutti. Ciao, parte da... I due fratelli alvegiani, il primo già pescatore, il secondo futuro. Ciao a tutti. Ciao a tutti, oggi vado a pescare all'Ascari. Buona serata. Ragazzi, guardate cosa ha preso mio figlio Ferdinando adesso, nell'immediato sotto arriva con una cannetta autocostruita. Grandissimo Ferdì, guardate, spigolona. No, sai, quando ho rilasciato un pesce, non un pesce meglio. Quando ho rilasciato due pesce, quando ho rilasciato ieri due di qua, non un pesce grande. Guardate, guardate che spigolona. Ferdinando dice che ieri ha rilasciato dei pesci piccoli. Mettila così, Ferdì. Tienila così, dai, dai. Con l'altra mano. Guardate che spigolona, ragazzi. Bellissima, Ferdì. Sei emozionato, amore? Saluto a tutti gli amici di YouTube. Guardate, ragazzi, spigolona. Bellissima. Ferdinando è un grandissimo pescatore. Ciao, ragazzi. Grazie, gran, bella spigola. L'abbiamo sciacquata. E adesso Ferdì se la porta a casa. Bellissima, Ferdì, bravissima. Ma guarda, guarda, è un grandissimo pescatore. Sì. È la prima campata, Ferdì. E dove c'è il bel giusto? Bellissima. Ciao, ragazzi, alla prossima. Non piace, mi piace. Non sogliettina, non sogliettina, non sogliettina. La porta a fortuna, guarda, non sogliettina. La porta a fortuna. Spigomona, trovo Ferdì.